Buongiorno, sento qui è la segreteria del provveditorato, potrebbe passarmi il bidello guardavaccaro? Chi devo annunciare? La segreteria del provveditorato. Pronto? Lei guardavaccaro? Sì. E qui è la segreteria del provveditorato. Volevo informarla che lei ha ricevuto quel posto di guardiano del casino. Va a fare la morte di mamma. A sorte. La morte di tu, la razza di tu, ma perché non vieni perciò? Che ti mette un cazzo di moca, ti mette un ricchio. Va a fare moca la morte di attorno, va? La mortaccia di mamma. E sono Ruffo, ho telefonato poco fa, è tornato guardavaccaro. Un attimo. Buongiorno, senta, sono il dottor Galante, mi passa il signor guardavaccaro? Sì, grazie. Grazie. Ha avuto ricchione? Buongiorno, senta, sono l'idraulico, sono venuto giorni fa a fare un aggiustamento. Potete passarmi il bidello Nicola, mi pare, si chiama? Guardavaccaro. Sì, sì. Sì, grazie. Mi è pronto? Sì. Sono l'idraulico. Ma io sento che a quel cazzo è pronto. Sono l'idraulico, mi sono scogliato un tubo in gulatter. Buongiorno, senta, vuoi passarmi il signor guardavaccaro? Un attimo, signor. Grazie. Nicola? Mi prendi in bocca sta ciola? Sì, la verità, aspetta che non ti forcherai il cuo perché c'è la madonna. Io ti spaccherei il cuo a metà. Mi l'ho dimbraccata, l'unità, sporcazione, un po' il cuo rosso. Conviteci. Pronto? Qui è la panetteria Ricci. Sì. Senta, prima in qui mi hanno ordinato 320 pezzi di focaccia. Non lo so, li devo portare perché mi è sembrato che era uno scherzo telefonico. Ma guarda, di qua lì io non l'ho telefonato niente. No, perché mi hanno detto che era un bidello, ha parlato, dice che era un bidello, Nicola. Non lo so, ma chi è. Un attimo solo. Vabbè. Pronto? Dimmi. La focaccia la devo portare o no? A chi la devo portare? Siccome c'è stata l'ordinazione, la porto o no? La focaccia? Eh? Porto la mamma, la focaccia di tavolo. Ma senta che moglie lo dico al padrone. Buongiorno, sono pocazione Nicola, mio marito. Guarda la gara? Sì. Un attimo. Nicola? Sì? Ma sì, con il trasformativo? Che scopriamo? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. 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 Puoi venire un po' più tardi oggi? Che vuoi? Perché non lo stanno mettendo in cura. Io ti romperò il culo a me. Capito? Di a quelli che stanno ridendo insieme, che mi faranno un bocchino. C'è quei bocchini belli asseduali. Ma tu non di nascita, lui ti romperò. Perchè? Come si chiama. Che tutta la raia parte. Perchè? 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 Ah!